Il punto non era preso dalla nostra... sembrava sicuramente preso e quindi... vediamo un po' di finire questo tiro, ripeto, 9 a 4 per Magri ma mentre Magri va a visionare il gioco, accanto a me il responsabile della tecnica regionale Lombarda, della Lombardia, Marco Balgera e siccome vediamo in chat molte persone che ci scrivono che forse ci potrebbero essere stati degli errori nel sorteggio o cose del genere Marco Balgera qui accanto a me ha già capito di cosa stanno parlando i nostri amici in chat e gli cedo il microfono per poter dire qualcosa in merito No, era per spiegare, mi hanno spiegato che in chat ci sono delle discussioni sul fatto che Cristiano Andreani si trova nei quattro mentre non si è presentato sul campo di gioco Il problema è nato da un errore commesso dalla società organizzatrice in quanto Cristiano Andreani non ha inviato l'iscrizione a questa gara né da parte della società Alto Verbano né da parte del Molificio Astrale che era la sua società precedente in quanto Molificio Astrale sapeva che Andreani si sarebbe trasferito all'Alto Verbano e Alto Verbano non era sicuro che all'atto del sorteggio sarebbe stato già girato il tesseramento di Andreani quindi Alto Verbano ha iscritto un giocatore che sapevano non sarebbe venuto dicendo che nel momento in cui Andreani dovesse ricevere il trasferimento per tempo gioca in sostituzione questo giocatore la società organizzatrice purtroppo ha comunicato ai responsabili del sorteggio del comitato di Sondrio di iscrivere anche se l'iscrizione non c'era tutti i giocatori che erano presenti alla parata del sabato quindi il comitato di Sondrio, tra l'altro il sorteggio l'ho fatto io hanno caricato il nominativo di Andreani e l'hanno caricato con la società per la quale risultava iscritto in quel momento che era il Molificio Astrale a questo punto una volta pubblicato il sorteggio i responsabili di Alto Verbano ci hanno chiesto il motivo per cui si trovava Andreani nel sorteggio abbiamo spiegato la cosa come è avvenuta a questo punto capito l'errore capito che effettivamente l'MPS Astrale non aveva fatto l'iscrizione Alto Verbano aveva la prova dell'iscrizione inviata nella quale Andreani non risultava e allora in accordo col direttore di gara e come tecnica regionale abbiamo deciso di considerare nulla l'iscrizione di Andreani Cristian come Molificio Astrale e di accettare il fatto che Andreani giocasse in delega in sostituzione di un giocatore di Alto Verbano questo è per capire che non c'è stato nessun trocchetto, nessuna pastetta sotto è stato solamente un disguido dovuto a... Marco Valgera mi sembra che abbia spiegato benissimo questo inghippo chiamiamolo tra virgolette c'è stata un'iscrizione e poi con una società poi addirittura Alto Verbano ha iscritto un altro giocatore in sostituzione è entrato Andreani e di conseguenza diciamo che la cosa anche se non è del tutto regolare è diventata regolarissima con la conferma della tecnica in quanto si è potuto dimostrare che l'iscrizione di Andreani non è avvenuta per cui Andreani in effetti non era iscritto alla gara per volontà né sua né della sua società